senza fretta lo studio cesaroni palla per agnagni che fa sponda per carcagnolo che di prima trafigge il portiere opara per all'uno a zero a bastianini che viene servito in questo momento bastianini cerca il fondo copre bene il pallone carcagnolo paratone di opara incredibile salvataggio sul pallone valentini per bastianini sempre bene carcagnolo ancora bastianini pallone sul palo incredibile la sale varani servito carcagnolo siamo dentro l'era di rigore incrocio e c'è il vantaggio 2 a 1 carcagnolo trova la doppietta personale 2 a 1